Il maggio organistico presenta concerti d'organo e di musica antica buonasera e benvenuti a il maggio organistico presenta questa sera in programma di alessandro scarlatti messa di santa cecilia per soli coro e orchestra ascolteremo il chirie gloria credo santus e annus dei diego fasolis dirige i barocchisti il maggio organistico presenta questa sera in programma di alessandro scarlatti grazie a tutti 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 grazie a tutti